E invece cari telespettatori andiamo a vedere la situazione di un comune che si trova nell'entroterra, un comune virtuoso perché parliamo di Pazzano nella vallata dello Stilaro e andiamo ad ascoltare il sindaco Valenti che è un comune che ancora ha zero contagi mi pare di capire. Grazie a Dio, oggi si è verificato uno solo a Bivongi ma nella vallata possiamo dire di essere virtuosi da questo punto di vista. Come comune ci stiamo attivando, rispettiamo le regole, ai cittadini gli facciamo rispettare le regole e le stanno rispettando. I cittadini si sono comportati da questo punto di vista molto bene. Dovete stare anche attenti perché avete una popolazione anziana. Sì, infatti noi abbiamo una popolazione che l'età media è di 65-70 anni quindi la popolazione è molto a rischio, da questo punto di vista siamo molto a rischio. Ecco quindi non sono stati casi, la gente rispetta oppure qualche passeggiata in più nel paese c'è? Sì ma si può quantificare, la gente li rispetta benissimo, anche tutte e due bar rispettano le regole imposte, anche quella che abbiamo fatto sui cimiteri è stata rispettata. C'è stato dato atto che noi facevamo il controllo con il termoscanner e poi prendevamo i numeri di telefono della gente, firmava e si è comportata benissimo la gente. Possiamo dire di essere soddisfatti da questo punto di vista.